I ministri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, nell'ambito del rafforzamento del dispositivo di contrasto al caporalato e all'impiego di lavoratori in nero nei terreni agricoli della provincia di Raggio, hanno avviato una capillare attività di ricerca informativa finalizzata ad individuare i campi di coltivazione in cui vengono impiegati i braccianti agricoli in violazione della normativa contributiva previdenziale ed assistenziale. In merito, nei giorni scorsi, i finanziari della compagnia di Melito Portosalvo hanno eseguito controlli nelle campagne di Condufuri, in particolare nei confronti di 5 aziende agricole. Nell'ambito dell'attività ispettiva sono stati individuati complessivamente 17 lavoratori intenti alla raccolta del bergamotto di cui 10, 3 indiani e 7 italiani, sono risultati in esito dagli accertamenti completamente irregolari. Sono state così trasmesse all'Ispettorato Nazionale del Lavoro le segnalazioni per la sospensione dell'attività nonché i verbali di contestazione per rirrogazione della cosiddetta maxisanzione. In un caso, la maxisanzione è aggravata per l'assunzione irregolare di manodopera percettrice di reddito di cittadinanza. In un terreno, infatti, i finanziari hanno constatato la presenza di un percettore del citato beneficio che sarà così segnalato all'Inps per la revoca della prestazione sociale agevolata.